Slurpuff! Team si basa sulla combo di un'abilità nullo difesa e di una mossa a gioco di ruolo che consente poi di utilizzare, grazie appunto a questa combo, una serie di mosse a precisione infallibile. Allora, questa tipologia di Team vuole che si utilizzino particolari e specifici Pokémon. Ecco qua Mega Pidgeot, perché Mega Pidgeot possiede l'abilità nullo difesa. Dall'altra parte del campo, invece, troviamo Smirgol, che a differenza di Mega Pidgeot è un Pokémon che si è visto spessissimo in VGC. In questo turno mi sono protetto con entrambi i miei Pokémon per evitare mosse di stato da parte di Yuxi, ma soprattutto il bruciapelo di Weavile, quindi erano abbastanza ovvie le mie protezioni. A questo punto Smirgol utilizza nel suo infinito arsenale di mosse gioco di ruolo. Quindi cancella Altalena, ma, e dico ma, la sostituisce con Nullo difesa di Pidgeot. Nullo difesa fa sì che tutte le mosse risultino infallibili e vadano a colpire il nemico sempre e comunque. Qui purtroppo Mega Pidgeot va a KO. Questo mi ha sbalordito, poiché Mega Pidgeot è un Pokémon abbastanza resistente in entrambe le difese e con buoni punti salute. Questo è dovuto al fatto che quello Sky a gelo di Weavile era potenziato dalla Sorbisfera, quindi io non ho potuto mettere il vento in coda. Grave perdita. Però Smirgol, se avete osservato, io non ve l'ho detto, grazie ad Altalena ha acquisito un più due in velocità. E ora, grazie all'abilità acquisita con gioco di ruolo, cioè Nullo difesa, può sparare un vuoto tetro di precisione infinita. Quindi entrambi Pokémon dell'avversario, il Neo è entrato Crocodile e il Pokémon già presente Yuxi, vengono inesorabilmente e inevitabilmente addormentati. E per chi non lo sapesse ancora, ora lo sa, anche Landorus ottiene gioco di ruolo. Perciò anche il mio Landorus ora ottiene Nullo difesa. Ma il bello, ragazzi, non si ferma qui, non si ferma al poter utilizzare vuoto tetro in maniera infallibile o frane in maniera infallibile. Ma si utilizza questa combo per fare abisso, ragazzi, abisso in maniera infallibile. Una mossa da KO in un colpo per mettere KO tutti gli avversari in men che non si dica. Questa, ragazzi, è una strategia di una bastardaggine allucinante. Praticamente se l'avversario non è pronto per fronteggiare qualunque tipo di team, si troverà malissimo. Allora, il mio avversario rimette in campo Weavile, io mi proteggo con Landorus per evitare l'ovvio bruciapelo. Qui Smirgol si sveglia e lancia anche lui. Puro gelo! Anche puro gelo come abisso ha una precisione orribile del 30%. E voglio vedere se non siete d'accordo. È una mossa che mette KO anche questa in un sol colpo chi viene colpito. Yuxi rimane, anzi no, Yuxi si sveglia e fa privazione. È una mossa che più che altro su Yuxi si trova in singolo. Ma non durerà molto la sua presenza in campo perché verrà messo KO in un colpo da un secondo puro gelo. E vi assicuro che mettere KO Yuxi in un sol colpo non è assolutamente facile. È resistente quasi quanto Crescelia perché ha delle difese anche più alte ma con molti meno punti salute. Mailotic appena entrato purtroppo non fa praticamente in tempo a cliccare sulla mossa da usare perché viene messo KO invece dal secondo abisso. Allora, questo team è veramente divertente da utilizzare, non sicuramente da trovarsi contro. La seconda lotta vede in gioco un Pokémon molto particolare chiamato Dublade. Dublade è la pre-evoluzione di Aegislash e in questa catena evolutiva sia Onage, sia Dublade, sia Aegislash sono dei Pokémon che veramente mettono in difficoltà l'avversario. Sono fortissimi in qualunque tier esistano. Allora, la lead di questa partita è la stessa della sfida precedente. Mega Pidgeot più Smirgol. Dall'altra parte di campo troviamo Espeone e l'Onnipresente Mega Kangaskhan. Vi ricordo che nella settima generazione non si possono usare le Mega, quindi... se non nella modalità della lotta aperta. Quindi stiamo tranquilli, Mega Kangaskhan non lo incontreremo. Io per evitare il bruciapelo, come nella partita precedente, prima di Weavile, ora di Mega Kangaskhan, mi proteggo con entrambi i miei Pokémon. Quel bruciapelo aveva anche uno scopo secondario, ovvero quello di far potenziare Espeone senza subire problemi e danni eccessivi. Espeone infatti ha usato calmamente come Xerneas in combo con bruciapelo di Mega Kangaskhan avrebbe potuto usare l'attacco Geocontrollo. Ovviamente quella di Espeone è una strategia alternativa e anche più debole. Con Evento in Coda che riesco ad utilizzare invece in questa partita, io raddoppio dal prossimo turno la velocità del mio team. Questo è un vantaggio veramente notevole. Kangaskhan si raddoppia invece l'attacco, forse peggio pure, ma Smirgol mi dà la possibilità dai turni successivi di utilizzare nelle mosse infallibili perché riesco a copiare con gioco di ruolo, nulla difesa di Mega Pidgeot appena in tempo perché viene messo KO da questo potentissimo Psycho Shock di Espeone che ricordo ha 130 di attacco speciale di base più 1 in attacco speciale. Quindi è assolutamente una cosa devastante quell'Espone in questo momento. Però noi abbiamo la velocità raddoppiata, quindi io posso con gioco di ruolo anche di Landorus copiare nulla difesa. A questo punto non mi resta altro da fare che mandare KO quel Mega Kangaskhan che non ha utilizzato Svigo Attacco per paura che Smirgol utilizzasse delle mosse di stato. Quindi questo mi ha avvantaggiato particolarmente, mi ha consentito di mettere KO Mega Kangaskhan in un colpo solo con puro gelo a precisione infallibile. Espeone vuole buttare giù Smirgol, però Smirgol rivela l'ovvietà, ovvero foca il nastro. Xerneas e Shiny è il sostituto di Mega Kangaskhan. Siamo quindi in una situazione di parità che non dura molto perché Landorus manda sottoterra quello Xerneas in un colpo solo grazie ad un abisso a precisione infallibile. Perciò il Pokémon che ci ha dato più problemi in questa partita è stato sicuramente Espeone perché ci ha messo KO praticamente un Pokémon e mezzo. Ma fortunatamente quel mezzo, ovvero Smirgol, non è andato KO e anche con un punto salute riesce ad essere decisivo. perché con puro gelo mette KO il terzo Pokémon di questo match, ovvero Espeone. A questo punto entra in campo un bellissimo Iveltal, o Iveltal, Shiny. Io lo adoro Shiny, ve lo assicuro. E ora non mi basta fare altro che una frana con Landorus, perché Abisso non aveva effetto, e un puro gelo finale con Smirgol. Una tattica secondaria era quella di utilizzare Gravità in modo da colpire con Abisso, anche i Pokémon con levitazione e i Pokémon di tipo volante. Purtroppo però non ho trovato spazio nei moveset dei miei Pokémon e ho dovuto rinunciare a questa mossa. Non ho potuto insegnare Gravità a Smirgol perché le quattro mosse che Smirgol ha, tutte quattro servono. Siamo giunti ormai alla fine del video, ragazzi. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito dall'inizio del 2015 fino a questa fine del 2016, ovvero per gran parte della durata della sesta generazione. Questo è molto probabilmente l'ultimo video di lotte sulle DS che porterò della sesta generazione, anche se ho intenzione di fare qualche video dedicato a questa generazione, ovvero la sesta, per commemorare le più belle lotte, più bei eventi che mi siano capitati giocando in Wi-Fi o all'interno del gioco, diciamo, nella modalità storia. Quindi ora non mi rimane altro da fare che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Buon proseguimento con la programmazione di Slurpuff Channel.